Il Galsavuto ha intrapreso già da tempo un percorso di scoperte e di valorizzazione di tutte le eccellenze del territorio. Per questo sostiene il rilancio delle più significative tradizioni popolari, che hanno secoli e a volte millenni di storia. Rogliano, il centro più popoloso del Savuto, vanta tra le altre anche la tradizione dei tamburi, immancabili soprattutto in occasione delle fesse religiose. I festeggiamenti in onore di Santa Maria nel rione Cuti hanno ospitato l'evento Cantanno e Sonanno. Questo è un progetto nato con Expo Italia insieme con la regione Calabria e noi come Galsavuto abbiamo puntato alla riscoperta delle antiche tradizioni, degli antichi borghi proprio per portare quelle che sono le tradizioni peculiari di un territorio ormai alla scoperta perché in questo periodo dove ci sono tante feste che rispecchiano un po' tutte le tradizioni perché poi ogni piccolo borgo nostro ha dietro una marea di tradizioni dai tamburelli alle pullicinelle a quelle che sono tradizioni culinarie perché dovete sapere che quando ci sono queste feste padronali nei piccoli borghi si riscoprono anche delle tradizioni culinarie antichissime che sono state portate avanti dai nostri nonni e oggi più che mai sono dalla riscoperta.